Alla Toscana delle donne la giornata di oggi era dedicata al lavoro, una partecipazione al mondo del lavoro che rimane ancora più bassa di quella maschile, come certifica la relazione biennale dell'IRPET. E c'è questo zoccolo duro di donne che non partecipa al mercato del lavoro o che esce dal mercato del lavoro e poi non riesce più a rientrarvi. Negli anni il divario tra i salari maschili e femminili si è ridotto ma rimane ancora intorno al 25%. Questo non significa che le donne a parità di mansione prendano meno degli uomini, sono vari gli elementi che contribuiscono al gap salariale. Si parla di gap salariale considerando il reddito medio, che però è il risultato di molte cose, è il risultato del tipo di professione svolta e di solito sappiamo che le donne lavorano in settori che hanno retribuzioni mediamente più basse. In più le donne hanno cose più alte di part time, quindi meno ore di lavoro, meno stipendio alla fine del mese. La certificazione di genere nelle aziende di cui si è parlato stamani alla Toscana delle Donne ha tra l'altro proprio lo scopo di conciliare la vita familiare e lavorativa, che è ancora uno dei principali motivi della scarsa partecipazione rispetto agli uomini al mondo del lavoro da parte delle donne. Introdotta con il PNRR è facoltativa e prevede incentivi, ad esempio sgravi fiscali, per le imprese che dimostrano di mettere in atto politiche che riducono il divario di genere. La certificazione di genere è importante, è un passo avanti, è un percorso che abbiamo appena iniziato in realtà, anche su un forte input che viene dall'Europa stessa. Al momento sono soprattutto le grandi aziende a farlo e in Toscana esistono esempi virtuosi, presentati proprio alla Beckeri Ux. La Beckeri Ux è proprio questo esempio virtuoso e come la Beckeri Ux in realtà ha tanti altri esempi, come SNAM, come ENI, ENEL Green Power, come INEOX, quindi aziende ma anche multinazionali dove il ruolo della donna è sempre più centrale.